Musica Siamo riusciti ad ottenere un buon risultato in poco tempo grazie al metodo che ci è stato insegnato dal maestro Evano. Soprattutto il metodo del sogno lucido, cioè il prepararsi mentalmente il taglio da applicare alla testa, alla testina, prima di farlo materialmente. Bisogna prima immaginarsi tutte le azioni che dobbiamo eseguire e poi naturalmente applicarle al taglio. Come detto già prima è stato molto facile grazie al metodo che ci è stato insegnato. Grazie alla guida del maestro Evano siamo riusciti velocemente a strumentalizzare le nostre motivazioni personali e individuali per ottenere risultati precisi, funzionali alle aspettative della Marina. Il corso si è caratterizzato anche sotto il punto di vista umano, visto che grazie al confronto delle nostre esperienze di allievi con quella decennale del maestro abbiamo potuto tirar fuori il desiderio da noi e ottenere i risultati che c'eravamo prefissi. La bellezza che oggi stiamo vivendo a fine corso non fa altro che consolidare quelle che erano le nostre aspettative, il metodo che funziona e che si lega alla volontà dell'allievo. Siamo stati fortunati a trovare un gruppo compatto che ha seguito le direttive, non ha tralasciato nulla e quindi nell'arco di tre settimane siamo riusciti ad ottenere degli ottimi risultati. Questo naturalmente è di buon auspicio a tutti e tutti quelli che vogliono avvicinarsi alla nostra professione capendo che se c'è di base la buona volontà il resto lo mettiamo noi con il nostro metodo perché è un metodo che si divide da una parte pratica e dall'altra parte che sa guardare il desiderio e lo scopo dell'umano quindi della persona e quindi dell'allievo. Grazie 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 Grazie